La regione Lombardia è stata la prima in Europa ad affrontare questo aggressivo virus e a confrontarsi con le conseguenze. Quindi è chiaro che noi saremo estremamente cauti e rispetteremo tutte le regole che sono dettate dalla scienza. Ma questo non toglie che si debbano ascoltare le associazioni di categoria, le attività produttive, le università, i sindacati per pensare a una ripartenza, una ripartenza graduata, ma una ripartenza che ci dia la speranza di riprendere la nostra vita.